Cantate, pregate con noi Piccole rondini del cielo Ave Maria 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 La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo Spirito. Un cordiale saluto a tutti i presenti, a tutti gli ascoltori di Radio Maria che sono con noi collegati. Oggi è una giornata speciale perché in questo giorno in cui celebriamo la Beata Vergine Maria del Rosario, concludiamo anche il trentesimo anniversario di Radio Maria. E quindi lo concluderemo con una cerimonia molto speciale con l'incoronazione della Madonna come regina di Radio Maria. A significare che lei è, diciamo, la nostra protettrice che è anche un modo per dire che la radio ce l'ha donata a lei, che la rimettiamo nelle sue mani, che siamo al suo servizio. Fratelli, prima di celebrare i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, o i fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore Pietà, Cristo Pietà, Signore Pietà, Signore Pietà, Signore Pietà, Gloria a Dio nell'alto dei cieli. E facci in terra, uomini di buona volontà. Noi ti odiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Filo, unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo Con lo Spirito Santo e la gloria di Dio, Padre, Amen Preghiamo Infondi nel nostro spirito la Tua grazia, oh Padre Tu che nell'annunzio dell'Angelo ci hai rivelato l'incarnazione del Tuo Figlio Per la Sua passione e la Sua croce Con l'intercessione della Beata Vergine Maria Guideci alla gloria della Resurrezione Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio E vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo Per tutti i secoli dei secoli Tagli atti degli Apostoli Dopo che Gesù fu assunto in cielo Gli Apostoli ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Olivi Che è vicino a Gerusalemme quanto il cammino permesso in giorno di sabato Entrati in città Salirono nella stanza al piano superiore Dove erano soliti riunirsi Gli erano Pietro e Giovanni Giacomo e Andrea Filippo e Tommaso Bartolomeo e Matteo Giacomo figlio di Alfeo Simone lo Zelota E Giuda figlio di Giacomo Tutti questi erano perseveranti E concordi nella preghiera Insieme ad alcune donne E a Maria La madre di Gesù E ai fratelli di Lui Parola di Dio Grazie a 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 tutti. 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 Alleluia. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A queste parole. Alleluia. Non temere. Alleluia. 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 Grazie a tutti. A tutti. A tutti i nostri ascoltatori. Alleluia. Alleluia. metteremo. Alleluia. sulla Madonna. Alleluia. 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 E' un momento straordinario. Che la Madonna ha radunato. Nel corso di questi anni. Quasi senza che noi ce ne accorgessimo. Qui abbiamo il nostro presidente passato. Si chiama past presidente. Ora si parla tutti americano. nostro presidente che. Quando appunto la radio era qui a Erba. E guardava le come come faremo. e poi pian piano i nostri ascoltatori hanno voluto che la radio fosse portata in tutta Italia l'hanno voluta loro ma arrivati in Italia poi loro hanno voluto che si continuasse a portarla nel mondo ma era un progetto diciamo così al di là di qualsiasi possibilità ma anche sotto il profilo fisico mi ricordo che venne la mamma di Ferrari che aveva 92 anni in carrozzella e mi dice sono paura che mio figlio quando va all'estero e chi avrebbe mai pensato invece che invece all'estero siamo andati prima in Polonia che fu la prima radio all'estero ma noi abbiamo incominciato nel 1987 era il momento in cui l'Unione Sovietica dominava il mondo eppure nel 1991 abbiamo fatto la radio in Polonia con cui c'era ancora il comunismo nel 1993 credo l'abbiamo fatta a San Pietroburgo chi immaginava allora che in tutti i paesi dell'estero europea ci fosse adesso come adesso una radio Maria che va benissimo questo per dire le opere del Signore e come ha ragione la Madonna nel dirci nel suo ultimo messaggio che non perdete tempo a pensare al futuro preoccupandovi ma vivete l'istante presente secondo mio figlio e comunque la cosa che più mi aveva colpito quando noi facevamo la rete italiana Ferraro mi faceva vedere la cartina diciamo siamo qui in Emilia adesso andiamo in Romagna poi ogni volta che mi accendevo un ripetitore io con la macchina andavo viaggiavo di notte andavo a vedere se si sentiva la radio Maria quindi si lavorava di giorno si viaggiava di notte mi ricordo che una volta abbiamo acceso a Napoli io prendevo a Napoli per sentire se si sentiva la radio cioè tempi eroici incredibili ma la cosa che più mi colpì è che a un momento una volta mi portò la carta dell'America Latina e disse sai che adesso andiamo in Perù e io guardo il Perù e lui fa poi andiamo nelle Ande e poi andiamo io dico ma questo qui è matto e invece si fece tutta l'America Latina ripetitore dopo ripetitore è una cosa che non ha non c'è non ha riscontri nella storia dell'evangelizzazione perfino San Paolo in pallidirebbe adesso a confronto e poi è incominciata l'avventura dell'Africa nessuno di noi poteva pensare che gli africani prendessero così a cuore Radio Maria era una cosa impossibile cioè pensavamo andiamo a evangelizzare l'Africa ma quelli in quanto i quattro anni abbiamo messo in mano le radio con che calore con che responsabilità con che impegno insomma un'avventura incredibile e man mano che andavamo avanti ci rendevamo conto che era un progetto della Madonna perché ci siamo resi conto che era un progetto della Madonna ma sapete perché? per la gente che si converte questa è una caratteristica di Radio Maria io posso provarsi che ci sia qualche altro strumento qualche altra cosa non lo so io so solo una cosa che se io quando faccio la giornata di sensibilizzazione avro per tre quarti d'ore i microfoni una volta al mese e dico testimoniati alla vostra conversione arrivano telefonate che potete mandare avanti per tutte le 24 ore quando incontro la gente in genere incontro la Međugorje ma anche qua tutti mi dicono la medesima cosa mi sono convertito ascoltando Radio Maria noi non abbiamo l'idea noi abbiamo popolato il paradiso abbiamo fatto fare i lavori straordinari a San Pietro davanti alla porta del paradiso tante persone abbiamo indirizzato ma sapete quante persone sono morte ascoltando Radio Maria neanche il sacramento dalle sue emozioni dico questo per dire che questo è il segno di Maria cioè le conversioni sono il segno della Madonna in questi anni quindi abbiamo preso consapevolezza di questo grande dono che è Radio Maria che la Madonna ci ha fatto siamo qui a ringraziare per questo dono ovviamente ne sentiamo tutta la responsabilità siamo qui a ringraziarla per la protezione che ci ha dato perché il diavolo ha cercato di prendersela e di distruggerla in tutti i modi non ha cercato cerca ha cercato cerca e cercherà di prenderla e distruggerla in tutti i modi ma noi abbiamo visto i miracoli dalla Madonna quante volte da situazioni impossibili umanamente impossibili lei ci ha tirato fuori molte volte ci ha tirato fuori il 25 del mese per cui noi ci siamo resi conto che è un dono speciale della Regina della pace questa protezione continua che ci ha accompagnato in tutti questi anni perché comunque nella lotta contro Satana solo la Madonna può risultare vincitrice poi cerchiamo di pensare cioè questa è una radio che ha un'influenza enorme in tutti i paesi è una radio comunque che è proprietà di un'associazione civile tutti la vorrebbero ma la Madonna dice mi spiace il copyright è mio non c'è niente da fare si chiama Radio Maria la vuole tenere lei e noi dobbiamo essere gli strumenti con i quali la Madonna vuole tenere in mano questa radio noi siamo gli strumenti con i quali la Madonna vuole realizzare i suoi progetti con questa radio abbiamo sentito la protezione della Madonna ma abbiamo anche sentito il suo aiuto concreto perché ormai ci siamo fatti l'abitudine ma non esiste al mondo un progetto del genere che comunque è una impresa umanamente parlando è un'impresa multinazionale il cui fatturato sulla salvezza delle anime no ma quello non lo puoi portare all'agenzia delle entrate le anime salvate non c'è niente da fare eppure la Madonna nonostante che non abbiamo pubblicità ha sempre provveduto a andare avanti Radio Maria io ho sempre detto a Ferrari Ferrari noi non facciamo debiti quando abbiamo bisogno chiediamo agli ascoltatori se non sono d'accordo bene se non aspettiamo non c'è niente da fare allora noi abbiamo visto che quanto è vero quello che dice il Vangelo cercate prima il regno di Dio e tutto il resto vi sarà avuto in sovra più quando si lavora bene si lavora per la Madonna si lavora con generosità la Madonna benedice la Madonna aiuta questa è una cosa che noi abbiamo visto per tutti i trent'anni anzi abbiamo anche visto che la Madonna ha degli interessi particolari la ha dei particolari aiuti ci sono delle regioni che sono state fatte miracolosamente con reti quasi che non pensiamo neanche di poter acquisire improvvisamente arrivava una cosa o l'altra e si faceva qualche era impensabile fare impensabile fare voi pensate di fare una Radio Maria in paesi come come l'Olanda come il Belgio no con la Germania ci avevo qui il direttore Maria Oreb in Baviera sono molto cattolici ma nei paesi come dove abbiamo messo delle reti bellissime come l'Olanda e il Belgio era quasi impossibile e noi invece ci siamo riusciti cioè la Madonna ha trovato il modo per farlo questo e questo dunque poi senza pensare è quello che sta avvenendo adesso in Africa dove ovviamente è il clou dove noi stiamo operando perché questo è il momento dell'Africa questo è il momento in cui noi dobbiamo raddoppiare le radio media in Africa dobbiamo passare da 21 a 50 è il momento in cui bisogna tirar fuori tutto quello che abbiamo dentro perché dopo tutte le frequenze saranno occupate e costeranno un occhio adesso bisogna lavorare quindi c'è una strategia in tutto questo dove vuole arrivare la Madonna ci siamo chiesti io credo che la Madonna è molto concreta attraverso il piccolo mezzo della radio la Madonna arriva dappertutto perché questa è la verità cioè la radio veramente è un mezzo che arriva dappertutto ed è la radio è voce la voce parla al cuore Gesù ha detto andate predicate le persone non si convertono vedendo le immagini le persone si convertono ascoltando la parola di Dio quindi questo mezzo è straordinario come la Madonna l'abbia preso l'abbia utilizzato e lo stia utilizzando per far arrivare la voce della parola di Dio la voce della preghiera ovunque perché la radio si sente ovunque non è così la televisione tu non senti la televisione in macchina tu senti la radio arrivano i luoghi più sperduti è un mezzo straordinario che lei ha voluto utilizzare perché cosa ha voluto utilizzare perché nel tempo in cui nella grande battaglia che stiamo vivendo nel mondo per la fede perché di questo si tratta per la salvezza eterna delle anime la Madonna ha mobilitato il suo esercito fatto diciamo così da persone semplici umili e povere come siamo noi perché nessuno di noi ha studiato grazie a Dio nessuno di noi ha lavorato in comunicazione perché gli unici che ho dovuto fra quelli che ho dovuto allontanare la radio Maria erano quelli che ho lavorato in comunicazione per carità non va bene per la radio Maria no perché però qui qui si parla come vi sto parlando io adesso ai microfoni né più né meno non si fa tante storie adesso vorrei dire una parola di ringraziamento agli ascoltatori perché perché io penso in questi 30 anni quante persone hanno messo mano a questo progetto una moltitudine immensa di persone ma noi voi non avete l'idea di persone che pregano che fanno la loro offerta molte volte sono grosse offerte molte volte sono piccolissime offerte di un euro che arrivano via banca un euro arriva per dire eppure chi la fa con l'offerta per lei è importante cioè tutte queste persone che hanno ascoltato che hanno fatto sacrifici che hanno pregato tutti i volontariato tutti i conduttori che abbiamo avuto tutto questo esercito è in cielo cioè è questa grande famiglia di costruttori della radio che vorrei ringraziare tutte queste vecchiette che ci aiutano che ci hanno aiutato e che hanno sono morte pregando con Radio Maria e guardando indietro è un fiume incredibile un fiume incredibile e quindi vorrei ringraziare non soltanto gli ascoltori che ci sono adesso ma tutti quelli che ci hanno preceduto tutti quelli che hanno usato a Radio Maria tutti quelli che hanno dato hanno fatto trasmissioni bellissime prima di andare in cielo ma è una cosa meravigliosa guardando indietro no e quindi un grazie a tutte queste persone e mi sono chiesto ma tutto questo perché è stato possibile perché è stato possibile è stato possibile perché la gente ama la Madonna cioè questa radio è un dono di amore ma il frutto d'amore del popolo italiano e con lui tutti gli altri popoli l'amore per la Madonna questa radio è nata cresciuta e va avanti con l'amore della Madonna se mancasse questa linfa dell'amore per la Madonna crollerebbe tutto guardate credetemi è l'unica cosa che deve esserci l'amore della Madonna perché poi tutto il resto viene da sé se mancasse l'amore per la Madonna l'amore per la Madonna dei conduttori l'amore per la Madonna dei volontari l'amore della Madonna per i nostri dipendenti per i responsi se mancasse questo amore della Madonna improvvisamente crolla tutto finché questo amore c'è tutto diventa possibile c'è anche le più grandi imprese diventano possibili quindi alimentiamo questo amore per la Madonna teniamolo vivo e lavoriamo per lei facciamo sacrifici per lei come dire non so come dire ognuno ognuno è chiamato a fare la sua parte cioè c'è chi è chiamato a far tanto c'è chi è chiamato anche a rischiare c'è chi è chiamato a combattere ognuno fa deve fare la sua parte ma per l'amore della Madonna dobbiamo fare tutti la nostra parte guardate che a Radio Maria siamo tutti apostoli di Maria siamo qui non siamo né lavoratori né volontari né niente siamo apostoli siamo apostoli di Maria lavoriamo per la Madonna per il suo progetto questa è la forza di Radio Maria essere l'onore di essere apostoli di Maria il futuro ma oggi non pensare al futuro però io dico fra trent'anni fra trent'anni quando celebriamo il prossimo trentesimo sessantesimo anniversario mettiamo il cinquantesimo mettiamo il cinquantesimo anniversario di Radio Maria io dico il mondo sarà migliore io guardo al futuro e dico fra cinquant'anni il mondo sarà migliore per cui italiane fate i figli per cortesia perché fra cinquant'anni il mondo sarà migliore sarà migliore perché la Madonna vincerà la Madonna è qui per vincere e qui la incoloriamo con la corona di noi sistemi perché è la corona della vittoria è qui come regina fra cinquant'anni il mondo sarà diverso sarà il mondo della pace perché gli uomini si convertiranno al re della pace che è Gesù Cristo fra cinquant'anni noi non ci saremo tutti il suo ferrario ci sarà perché inossidabile io non ci sarò ma non si sa mai però ci sarete voi ci saranno i nostri giovani ci saranno capito la Madonna avrà di noi i suoi apostoli ma credetemi credetemi io non vedo l'ora non vedo l'ora che un ripetitore di Rado Maria sia sulla Mecca speriamo che i nostri fratelli musulmani non sia rapido bene carissimi allora con questa luce di speranza con questa gioia del cammino un grazie a Madonna un grazie a Maria un grazie a tutti i nostri ascoltatori che ci hanno preceduto un grazie a tutti voi continuiamo questa eucaristia questa messa di ringraziamento in questo giorno benedetto ci alziamo e rinnoviamo la nostra fede credo in un solo Dio Padre omnipotente creatore del cielo e della terra di tutte le cose visibili e invisibili credo in un solo Signore Gesù Cristo unigenico Figlio di Dio nato dal Padre prima di tutti i secoli Dio da Dio luce da luce Dio vero da Dio vero generato non creato nella stessa sostanza del Padre per mezzo di Lui tutte le cose sono state create per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per l'opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo fu rocifisso per noi sottoposto bilato morì e fu sepolto e il certo giorno è necessitato secondo le scritture che saliva al cielo sia da la testa del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i figli e i morti e il sole non avrà la fine credo nello Spirito Santo che è il Signore che ha la vita e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti credo la Chiesa una santa cattolica e apostolica professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che vorrà amén preghiamo oh Padre rendici degni del sacrificio eucaristico e fa che celebriamo con sincera fede i misteri del tuo Figlio per raccogliere i frutti della redenzione per il nostro Signore Gesù Cristo tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli amén abbiamo le preghie dei fedeli ok scusate fratelli e sorelle Maria madre del Signore splende sul cammino del popolo di Dio segno di sicura speranza e consolazione per mezzo di lei arca della nuova alleanza la provvidenza del Padre ci dona Cristo parola e pane di vita eterna preghiamo insieme e diciamo ascoltaci oh Signore il tuo spirito gli doni luce e forza per confermare i fratelli nella fede e presiedere nella carità per i vescovi e i sacerdoti siano pastori secondo il cuore di Dio e sappiano guidare il proprio greggio in comunione con il successore di Pietro per i religiosi e le religiose i missionari i laici impegnati nell'apostolato e tutti coloro che ti servono con dedizione nei differenti stati di vita affinché non venga meno il loro lo spirito di preghiera e il fervore apostolico per i governanti e tutti coloro che sono impegnati nella vita sociale e politica siano custodi del bene comune e primi servitori dei popoli loro affidati per costruire la pace sulle fondamenta della verità della giustizia dell'amore e della libertà per la grande famiglia di Radio Maria la tua provvidenza ci doni la gioia di evangelizzare e tutti i mezzi spirituali e temporali per compiere la nostra missione in Italia e nel mondo specialmente quando incontriamo ostacoli difficoltà e persecuzioni per i benefattori vivi e defunti per i volontari di Radio Maria e per tutti coloro che mettono al servizio della regina della pace le proprie risorse il proprio tempo le preghiere e i sacrifici ricompensali con la tua provvidenza in questa vita e dona loro la gioia senza fine per tutti i nostri ascoltatori specialmente per i malati e per quanti soffrono nel corpo e nello spirito affinché dall'ascolto di Radio Maria traggano nutrimento spirituale e conforto nelle prove accoglio fare la preghia per il tuo popolo e fa che contemplando il mistero di Maria associati in corpo e anima al trionfo del tuo figlio riconosciamo in ogni persona umana il segno della tua immagine e il riflesso della tua gloria per Cristo nostro Signore amén benedetto sei tu Signore Dio dell'universo dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane come Gesù sul Calvario e sull'altare e come sacerdote che seguendo il suo Signore ha donato la vita per gli altri benedetto sei tu Signore Dio dell'universo dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino frutto della vita del lavoro del lavoro il vino frutto della vita è destinato a diventare il sangue di Gesù che sull'altare viene sparso per purificarsi e restituirci la bianca veste del battesimo rosario offriamo una corona del rosario catena d'amore che lega la regina della pace a ciascuno dei suoi figli fiori fiori alla regina del creato offriamo i fiori che racchiudono la bellezza della creazione e simboleggiano tutte le intenzioni che deponiamo ai suoi piedi radiolina la radiolina rappresenta la Madonna col bambino che attraverso le onde dell'etere portano la pace e la speranza nelle case degli ascoltatori pregate fratelli perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente il Signore che ci c'era tra le tue mani questo sacrificio all'opera di gloria del suo nome per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa o Padre rendici i degni del sacrificio equaristico e fa che celebriamo con sincera fede i misteri del tuo figlio per raccogliere i frutti della redenzione per Cristo nostro Signore Amen Il Signore sia con voi in alto i nostri cuori rendiamo grazie al Signore nostro Dio è veramente cosa buona e giusta nostro dovere fonte di salvezza rendere grazie sempre in ogni luogo a Te Signore Padre Santo Dio Onnipotente e Veterlo Noi ti odiamo ti benediciamo ti glorifichiamo nella memoria della Bate Vergine Maria del Santo Rosario per opera dello Spirito Santo ha concepito il tuo unico figlio e sempre intatta nella sua gloria virginale ha irradiato sul mondo la tua luce eterna Gesù Cristo nostro Signore per mezzo di Lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto al loro canto concedi o Signore che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode Santo, santo, santo Santo, santo, santo il Signore il Signore è il Dio del Diverso I cieli e la terra sono pieni della tua gloria, osanna, osanna, nell'alto dei cieli, osanna, osanna, nell'alto dei cieli. Santo, 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 edetto colui che viene nel nome del Signore, edetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna, osanna, nell'alto dei cieli, osanna, osanna, nell'alto dei cieli. Santo, 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 santo. Il Padre veramente santo e fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse, Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, presi il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse, Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammesso alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papo Francesco, il nostro Vescovo Mario, e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe e il suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri d'olito urbamento, nell'attesa che si compia la Beata Speranza. E venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi Apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. La pace del Signore sia sempre con i tuoi Spiricoli. La pace del Signore sia sempre con i tuoi Spiricoli. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Il corpo di Cristo. Il sangue di Cristo. Un amore, Padre, mi hai creato. Mi hai chiamato da lontano, dove il tempo è solo dono, e che rispondessi vicino, amore all'amore, e che rispondessi vicino, amore all'amore, e la parola dal silenzio ne può accendere, che l'uomo amato ancora racconta. Dove nulla si perde, io mi perderò, l'attorto nel tuo abbraccio, la gioia busserò, e padre tu sarai per me. Sulla strada accompagnami con Dio, tu sei il figlio e Dio con noi, ma mio sguardo lontano, seguendo il legno della croce, comprese l'amore, con segno sempre. Dove nulla si perde, io mi perderò, l'attorto nel tuo abbraccio, la gioia busserò, e padre tu sarai per me. Vieni a noi, spirito di pace, tu che sai la fedeltà. Dell'eterno abbraccio, allarga i confini del mio cuore, al cuore di Dio. Che la mia strada conosca le tue strade, il cuore arda per il freddo del mondo. Dove nulla si perde, io mi perderò, l'attorto nel tuo abbraccio, la gioia busserò, e padre tu sarai per me. Ave Maria. 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 Grazie a tutti. Donna del deserto e madre del respiro, ora pro nobis. Donna della sera e madre del ricordo, ora pro nobis. Donna del presente e madre del ritorno, ora pro nobis. Donna della terra e madre dell'amore, ora pro nobis. Ave Maria. 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 di incoronazione della Beata Vergine Maria alla quale abbiamo regalato questa corona e nel medesimo tempo accogliamo nel nostro cuore come madre e come regina, rinnoviamo la nostra volontà di essere a suo servizio la gioia di servire e la gioia di aiutarla dobbiamo essere noi le stelle che devono brillare intorno al suo volto intorno al suo capo il Signore sia con voi e con il tuo spirito vi benedica Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo Amén la Messa è finita andate in pace e mandiamo grazie a Dio Salve Regina Madre di misericordia vi da dolcezza speranza nostra salve salve Regina salve Regina madre di misericordia vita dolcezza speranza nostra salve salve Regina grazie a Dio Onnipotente il frutto il frutto il frutto del tuo seno Gesù salve Regina salve Regina salve Regina salve 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 grazie a Dio Onnipotente vorrei dare appunto la parola al nostro past presidente Emanuele Ferrario poi al nuovo presidente di Radio Maria Vittorio Riccardi e poi anche al nostro carissimo padre cocker amico di antica data che è il direttore di Radio Maria in Germania che si chiama Radio Oreb ma che effettivamente è una Radio Maria a tutti gli effetti carissimi ascoltatori oggi mi date l'occasione di essere grato a voi perché come una vera famiglia ci troviamo davanti alla Santa Vergine incoronata Regina di Radio Maria questa la Santa Vergine che 30 anni fa ha scelto l'Italia per avviare e diffondere nel mondo il progetto di Radio Maria progetto che proprio 30 anni fa padre Livio ha iniziato a costruire e qui mi rivolgo agli ascoltatori che hanno vissuto questi primi anni come ha detto padre Livio molti sono in cielo e io credo che dal cielo cadano grazie su questa radio attraverso questi ascoltatori che sono passati a miglior vita allora come ricorderete la rete italiana non era ancora completata e già voi ascoltatori ci avete infuso questo spirito missionario spendendoci ad andare per le vie del mondo io ricordo benissimo l'episodio di Radio Maria Perù quando ovviamente attraverso le telefonate si parlava di questo avvio della radio e la gente che diceva no noi non dobbiamo solo insegnare a fare una radio come era da Maria Italia il Perù oggi è un paese povero dobbiamo anche aiutarli ecco da lì vorrei dire è nato per voi per il vostro per la vostra sensibilità questo modo che poi abbiamo portato avanti negli anni questo spirito missionario spingendoci ad andare per le vie del mondo e sorreggendoci con la vostra preghiera e le vostre offerte e io ricordo del grande esempio di persone che ci aiutavano privandosi del necessario non del superfluo si privavano del necessario non del superfluo per aiutare questo progetto sono passati trent'anni però credetemi la Santa Vergine ha avuto con noi tanta tanta pazienza ci ha aiutati a crescere a comprendere e oggi è giusto che facciamo festa ma io penso che è giusta la festa ma adesso domandiamoci cosa vogliamo fare nei prossimi trent'anni questa è la domanda abbiamo degli obblighi cui non possiamo sottrarci perché la Madonna ha voluto che noi siamo la Radio Madre e come tale dobbiamo garantire che il progetto di Radio Maria pure attraverso una naturale evoluzione mantenga salvi i principi fondamentali che poi siano rispettati in tutto il mondo oggi non siamo più soli intendendo per soli quando abbiamo cominciato quando Radio Maria Italia era si muoveva nei primi paesi del mondo oggi non siamo più soli e la presenza qui tra noi di padre Riccardo cocker in rappresentanza dei paesi che sostengono la missionarità del progetto è fondamentale per rispondere a tutte le istanze che ci pervengono ultima in ordine cronologico la richiesta da parte dell'Angola Angola è un paese africano di lingua portoghese che rappresenta nel mondo Brasile Mozambico e Portogallo dove per ragioni che è inutile adesso raccontare non siamo ancora presenti ma restando in Angola serve un investimento iniziale di 500.000 euro e voi direte come mai perché se si vuole avviare un impianto costruire dei piccoli studi sul terreno che ci genererà il Vescovo perché in Africa a volte è meno costoso costruire dei piccoli studi esono che riadattare locali faticenti poi bisogna dotare gli studi di materiale tecnico di avanguardia con tutto questo e non è perché oggi volessi inserire a tutti i costi la parte economica perché credetemi come ha detto giustamente Padre Livio se noi lavoriamo bene il cielo ci fa arrivare al momento giusto non prima non dopo i mezzi economici ma tutto questo passa attraverso preghiera passa attraverso un coinvolgimento passa attraverso la famiglia mondiale cioè la famiglia nel senso vero del termine siamo veramente una famiglia i numeri li riconoscete vi ripeto 71 paesi beh insomma 71 paesi possono già rappresentare qualcosa come qualcosa in più di un terzo dei paesi veri reali per cui per i prossimi trent'anni ci sono i due terzi Radio Maria è nata nazionale per cui credo che noi dovremmo aumentare man mano che ci chiedono di portare Radio Maria andare effettivamente lavorando bene posso dire che oggi i vescovi ci accorgono lì in Angola per esempio abbiamo ritardato la visita per un problema di visto voi sapete per passare in Africa ci vogliono i visti bene loro attendendoci con assia si erano già quasi mossi per vedere cosa era possibile fare 77 radio operativa e 18 stazioni in lingua locale e qui vorrei spiegarvi meglio queste 18 stazioni in lingua locale sono sono un fiore all'occhiello del nostro progetto sono qualcosa che non esiste è una è qualcosa che fa solo Radio Maria vi spiego in Africa purtroppo esiste una lingua europea frutto della storia ma ma si può dare solo le informazioni in quella lingua in quella lingua non si arriva al cuore della gente per cui essendo evidentemente le lingue molteplici noi cosa facciamo abbiamo una sede centrale che trasmette faccio un esempio in inglese o in suwaili o nella lingua locale diffusa poi queste queste radio sul territorio prendono i programmi in inglese o in suwaili e poi emettono loro nella lingua locale e si arriva al cuore della gente perché la gente si converte ascoltando la lingua locale io ricordo vent'anni fa quando siamo arrivati in Borghina Faso questa signora che mi dice Emanuele è la prima volta in vita mia che io ascolto in una radio il Vangelo nella mia lingua bene oggi la tecnologia ci consente di ascoltare la radio con diversi mezzi ed in tempi medio-lunghi ci saranno sicuramente delle trasformazioni ma credetemi ascoltatori ad oggi se si vuole arrivare al cuore della gente si devono ancora accendere nuovi ripetitori possono essere in FM come da tradizione in tutto il mondo possono essere in digitale ma solo se noi mettiamo nuovi ripetitori noi siamo in grado di praticamente creare un ascolto il che vuol dire che la persona si converte il che vuol dire che la persona in casa sua ha più pace vive meglio il che vuol dire arrivare ai sofferenti e arrivare nelle prigioni arrivare dappertutto poi chiaro che questi ascoltatori sfruttano anche le nuove tecnologie come il telefonino eccetera ma non si può partire dal telefonino perciò ecco questo significa che non dobbiamo darci pace dobbiamo ancora continuare in questa opera di copertura nazionale di ogni nazione ad oggi noi abbiamo in carico 1863 ripetitori cosa significa quando voi andate in macchina e guardate una montagna vedete una torre ecco su quella torre c'è potrebbe esserci un ripetitore di Radio Maria ad oggi a ieri diciamo i ripetitori che funzionano portando nel mondo Radio Maria sono 1863 pensate voi a quella torre che vedete sulla montagna pensate a 1863 montagne personalmente non sono a conoscenza di altre radio che siano così diffuse nel mondo però non possiamo fermarci come ho detto prima ed in ogni paese dobbiamo puntare ad una copertura nazionale le richieste sono moltissime e senza nuovi ripetitori l'opera di aiuto alla evangelizzazione si inaridisce purtroppo il continente americano america latina è quello che è andato un po' intorpore e noi dobbiamo proprio darci dentro come si dice convincere aiutarli perché con l'aiuto senza questa diffusione la evangelizzazione si inaridisce l'Africa rappresenta oggi il destinatario dei maggiori investimenti con ritorni incredibili come ha detto padre Livio il continente africano sta dando grandi soddisfazioni per il lavoro come lo svolgono per il lavoro che prendono per la generosità degli ascoltatori le offerte adesso in Africa ovviamente il cellulare è diffusissimo il cellulare fanno tutto cito Radeonia Tanzania e noi abbiamo schedati in Tanzania 130.000 numeri telefonici 130.000 cioè sono numeri evidentemente che fanno meditare sulla forza che ha questo progetto sulla forza che viene dal cielo però noi non potremmo dimenticare che ci aspetta anche l'Asia l'oceano tutto col tempo non come come è avvenuto in questi trent'anni avverrà anche per i prossimi dobbiamo risvegliare l'America Latina come ho detto prima da una specie di torpore dobbiamo completare l'Europa il tutto con molta misura e prudenza ma guai a noi se consideriamo il 7 ottobre un punto da io difido sempre dalle cerimonie evocative in fondo come ha detto giustamente Padre Livio siamo delle persone scelte tutti perché scelti non è Padre Livio scelto non è Emanuele scelto non è Vittorio scelti siamo tutti tutti coloro che vivono questa questa questo progetto con un coinvolgimento personale ma voi pensate anche solo mentalmente la persona che dice beh dai prego un Ave Maria per Radio Maria ha un valore moltiplicativo immesso a fronte di questa crescita serve anche una formazione continua perché senza non costruiamo sul futuro e grazie a Radio Maria che ha concesso a Famiglia Mondiale l'uso dell'edificio che Radio Maria aveva acquistato negli anni 90 per farne la sede della radio e che poi non è stato utilizzato perché non era adatto per una sede tecnologica come la radio voi se andate qui sul tetto guardate cioè ci sono chilometri di cavo cioè è tutta una cosa che non ha senso in un edificio vecchio ma per Famiglia Mondiale le proprie attività è utilissima riassumendo i 30 anni prossimi potranno testimoniare la capacità propulsiva del progetto tramandato per generazioni ma se un progetto è del cielo e io ne sono certo la Madonna indicherà il giusto percorso senza trionfalismi ma sicuri che i sacrifici saranno sempre necessari come i problemi perché io credo che la pedagogia del cielo sia proprio questa fare in modo che ognuno di noi cresca attraverso i problemi altrimenti scusate se tutto va bene se se non ci sono problemi come minimo ci assoppiamo solo così il bene vince il male perché perché la vita di questo progetto è un continuo fra bene e male fra la lotta fra bene ed il male e credetemi vale la pena perché è un investimento che si tramuta in anime salvate vocazioni e risveglio della fede grazie bene funziona questo microfono sì abbiamo abbiamo visto che da quanto ha detto padre Livio e quanto ha detto Ferrario veramente la Madonna non ha nazionalità perché veramente sta sta andando questo progetto un po' in in tutte le parti del mondo però volevo un po' a nome del consiglio anche di amministrazione e dell'associazione Radio Maria salutare e ringraziare un po' tutti i presenti qui oggi la redazione padre Livio Roberta e tutti coloro che i quali ogni giorno ci aiutano a fare modo e a fare che il segnale di Radio Maria arrivi nelle case nelle case di tutte le persone che ascoltano però un ringraziamento anche a tutti i collaboratori qui degli studi i volontari l'ufficio informazioni e tutti voi conduttori qui presenti che siete appunto l'anima del programma di Radio Maria insieme a padre Livio un saluto particolare anche a tutti coloro i quali sono collegati adesso in streaming audio video gli studi mobili e l'organizzazione di Radio Maria sul territorio ci sono come ha citato padre Livio migliaia e migliaia di volontari questo è stato un esempio che ha portato l'Italia e che questo esempio del volontariato che nella natura del nostro spirito un po' italiano è veramente stato un carisma che siamo riusciti a trasmettere nella in un progetto come quello di Radio Maria nella radiofonia che io sappia praticamente non esistono Radio Maria con volontari tutti sempre sono delle radio sono tutti fatti da professionisti quindi tutti i collaboratori e tutti i volontari collegati volevo anche fare un saluto a coloro i quali ci ascoltano da oltreoceano voi sapete che abbiamo degli ascoltatori negli Stati Uniti in Canada ora lo streaming audio dei cellulari permette addirittura di avere ascoltatori in ogni parte del globo li possiamo anche monitorare però volevamo appunto salutare particolarmente gli ascoltatori di New York di Chicago di Toronto e Montreal che hanno delle vere e proprie sedi di Radio Maria e che costituiscono anche un loro piccolo programma però per cui per queste persone Radio Maria l'ascolto di Radio Maria diventa vitale e quindi ascoltano il segnale di Radio Maria con un ritardatore di sei ore ringrazio anche la presenza la presenza di Padre Riccardo un po' a nome di tutte le altre Radiomarie voi sapete che la grande famiglia che citava Ferrario sono tutte le associazioni che generano le 77 Radiomarie del mondo tutte insieme in una grande famiglia che si chiama proprio famiglia mondiale di Radio Maria questo è la realtà che è stata compiuta in questi questi trent'anni però considerando che siamo qui diciamo per la festa dei trent'anni quando ci si riferisce a Radio Maria abbiamo visto anche dalle parole di Padre Livio abbiamo visto delle cose straordinarie e si parla proprio di un piccolo grande miracolo infatti abbiamo anche la nostra rivista un miracolo di volontariato ma ma è possibile anche perché come è possibile che da un gruppo di un piccolo gruppo di volontari si arrivi in tutto il territorio nazionale con un'organizzazione così capillare quando si ascolta Ferrario però si capisce che dietro c'è una grande professionalità c'è un'organizzazione che negli anni è quella che comunque ha portato Radio Maria ad avere un segnale presente e a far esclamare tutti che Radio Maria si sente in qualunque luogo ecco la stessa filosofia devo dire e lo può testimoniare anche Padre Riccardo è la stessa filosofia che portiamo avanti e che portano avanti gli altri volontari e gli altri direttori di Radio Maria nel mondo un impegno e un sacrificio come ha ricordato Ferrario quindi un piccolo miracolo quindi ma oggi la nostra presenza testimonia però che in fondo non vi è nessun particolare miracolo perché la presenza costante la costanza e la presenza di ogni giorno è questo il valore che ognuno ognuno di voi mette in Radio Maria è questo che costituisce il vero miracolo cioè quello che spiegava anche Ferrario cioè non si può spiegare se non con una chiamata una chiamata personale una chiamata personale a sentirsi missionari missionari con questa particolare spiritualità mariana nostro Papa Giovanni Paolo II diceva i nuovi apostoli del terzo millennio io penso che questo Radio Maria lo abbia incarnato in una forma naturale lavorando giorno per giorno e voi ne siete testimoni oggi quindi un miracolo di missionarietà ma frutto di un lavoro costante da 30 anni effettivamente Radio Maria dà speranza e ogni giorno fa entrare nelle case la Santa Messa attraverso gli studi mobili e questo è un è un lavoro è un lavoro importantissimo attraverso sempre fatto attraverso da volontari da 30 anni Padre Livio è presente con un programma che è la lettura cristiana degli eventi e della storia come ultimamente lo abbiamo chiamato e con la catechesi questo effettivamente questa costanza è il frutto di questa missionarietà un grande esempio e quindi un grande ringraziamento a Padre Livio a Ferrario che vi devo dire è considerato uno dei massimi esperti di radiofonia nel mondo quando noi ci confrontiamo con le altre radio effettivamente Radio Maria il marchio di Radio Maria è molto rispettato perché sicuramente con tutti quei ripetitori con tutti quei trasmettitori che compriamo per alimentare diventa un gruppo che quando andiamo a cercare di avere delle frequenze viene rispettato proprio per la serietà del lavoro e quindi un ringraziamento anche a tutti i collaboratori a tutti i conduttori e volontari sul territorio è d'obbligo ma per finire ringrazio anche io gli ascoltatori che sono sempre stati e sono più di ascoltatori come abbiamo visto sono veri partecipi e sostenitori del cammino di Radio Maria abbiamo visto che dopo 30 anni Padre Livio e Ferrario hanno un entusiasmo e guardano avanti proprio come se fosse il primo giorno di Radio Maria e questo dà una grande forza è un grande esempio un pochino a tutti noi e un ringraziamento particolare agli ascoltatori che ci permettono e che sono diventati parte attiva di questo progetto un progetto che come ha detto Ferrario sta crescendo ma come ogni cosa cresce dall'amore dall'amore appunto di questa missione vi ringrazio tutti ancora un cordiale saluto a tutti voi scusate la povertà delle mie parole non sono italiano 35 anni fa ho studiato un anno a Roma perché si deve studiare un anno a un'altra università io sono andato a Roma sono qui con il nostro direttivo con il nostro coordinatore in rappresentanza degli altri nazioni e vorrei dire di tutto il cuore grazie perché voi avete fatto possibile la nascita di Radio Maria in Germania noi viviamo certamente in una situazione molto difficile con tutta la secolarizzazione ma anche noi vediamo i miracoli della Madonna con le radio statali e commerciali ci sono frequenze FM 1500 circa in Germania e adesso comincia la rivoluzione tecnologica con la radio digitale e solamente nove radio hanno ricevuto la prima volta nella storia del nostro paese una licenza nazionale che copre dal punto più sud al punto più nord di Germania tutto il territorio tedesco tutto il territorio di Germania noi eravamo già fuori una radio commerciale era prima di noi e quasi come un miracolo lui è andato fuori e siamo andati noi significa che adesso si può sentire facilmente e 90% del nostro paese il nostro segnale e questo è niente altro che un'esplosione viviamo in una situazione quasi di rivoluzione perché la radio marcia avanti con una energia con una forza incredibile e la gente ha sete ha fame di Dio e noi siamo responsabili di dare le risposte per le domande della vita e non noi il Signore con la Cielo e la Madonna possiamo dare questa risposta negli ultimi due anni abbiamo fatto veramente l'esperienza di un miracolo durante il mariaton Emanuele Ferrari è venito al nostro convegno di ogni anno e ha detto dovete prendere in mano Ruanda forse voi sapete la Madonna è apparso qui a Chibeo l'unico posto di Africa dove la Chiesa Universale ha riconosciuto le apparazioni della Madonna per tutto il mondo e la gente dopo il mariatono nessuno ha capito che è successo qui perché la gente era tanto generosa e in questo anno il cardinale di Nairobi di Kenya ci ha richiesto per un studio grande per tutta l'Africa Est la prima volta che una conferenza episcopale di tutto il paese ci ha richiesto normalmente solamente un vescovo e la reazione della generosità della gente era ancora di più e noi siamo veramente colpiti di questa generosità significa che noi siamo a fianco di voi siamo in grado di contribuire e lo vogliamo fare e un'altra volta voi avete fatto possibile gli ascoltatori di Italia con la vostra generosità e sono qui di ringraziare di tutto il cuore il papa Giovanni Paolo II aveva detto dovete fare le antenne tanto alte affinché il segnale arriverà a Cina a Cina significa abbiamo davanti di noi tante scommesse e insieme lo faremo noi siamo nel punto più sud di Germania qui Erba Lecco Bergamo Milano molto nel nord sono solamente quattro ore io sono 30 volte stato qui perché sono stato membro del direttivo per otto anni alla fase iniziale e posso dire questo insieme in una frase molto semplice voi avete la macchina giusta il Ferrari Ferrari è Ferrari e noi nel tempo passato con Michele Schumacher abbiamo la autista giusta insieme con l'aiuto del cielo della Madonna siamo invencibili grazie siccome non c'è molto altissimo tempo vorrei appunto che uno rappresentasse i conduttori come testimonianza della loro presenza qui a Radio Maria perciò vorrei pregare un nuovo conduttore che è il professor Lencioni si può venire qui è un'improvvisata si può si può venire a dire la parola dei conduttori ecco anche loro diano testimonianza grazie grazie è un'improvvisata quindi io come dire posso dire che è un momento speciale anche per me io ho iniziato il mio cammino di conversione dieci anni fa e dopo un tocco della della Santa Vergine tutto il cammino è stato è stato con Radio Maria quindi io sono stato ascoltatore devo dire un assiduo ascoltatore per molti molti anni finché un giorno il presidente Ferrario venne a a cercarmi a Pisa dove dove lavoravo allora adesso adesso io sono un medico sono negli Stati Uniti per un per un progetto di ricerca ma penso poi di rientrare in Italia e da cinque anni ho una una trasmissione appunto di dedicata all'oncologia e devo dire è una trasmissione che mi ha veramente dato molto di più molto infinitamente di più di quanto io abbia ricevuto il contatto con gli ascoltatori come come gli ascoltatori si aprono è un contatto che veramente mi ha mi ha educato e devo dire che insieme al cammino spirituale mi ha veramente cambiato anche nel mio modo personale di rapportarmi con i pazienti ho cominciato a vedere il malato prima della malattia e questo è un qualcosa che veramente credo sia fondamentale in tanti ambiti in tante professioni io a volte mi capita di sentire anche appunto trasmissioni di altri conduttori anche le più disparate perché devo dire una cosa che mi mancava tantissimo fortunatamente con tutti i mezzi tecnologici uno scarica riascolta insomma quando però quando sei abituato ad avere radiomaria anche in macchina vivendo negli Stati Uniti insomma è una cosa che veramente mi mancava però ecco sentire appunto anche argomenti più disparati trattati non con con la solita presupponenza traccotanza insomma ma ma come veramente da fratello ecco sentire questa vicinanza è una sensazione incredibile credo che che veramente questo simboleggi proprio questo questo plusso di amore che 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 veramente che veramente muove muove la famiglia e questa e questa grandissima grandissima opera per la quale veramente credo che non ci siano parole io lo dico come dire avendo avendo vissuto anche per molti anni all'esterno essendo quasi per molti anni infastidito da come da come non si riusciva a sfuggire a Radio Maria dovunque tu ti trovassi nelle gallerie non c'era non c'era appunto che se cercavi un po' di musica non non saltasse fuori quindi veramente un grandissimo miracolo però devo dire essendo anche stato qui in sede avendo visto un po' è un è un miracolo che che dietro ha un lavoro incredibile un lavoro un lavoro indefesso a cominciare dal direttore che voglio dire per 30 anni non so a che ora si alza la mattina come fa a farsi arrivare i giornali prima che siano stampati per avere per avere diciamo il 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 e poi e poi tutta la tutta la rete fino agli studi gli studi mobili che che vanno in anticipo controllano ispezionano affinché tutto tutto sia perfetto le cose le cose non nascono dal caso però veramente tutto con una con una catena con una catena di amore che noi dobbiamo allungare anello dopo anello veramente è importante e credo che certo non sta a me dirlo però ecco mi sono reso conto che veramente la donazione a Radio Maria è una donazione che poi ha un 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 potenziatore ha un 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 effetto moltiplicatore veramente incredibile ve lo dico io perché io personalmente devo dire la verità io io prima non ho mai fatto nessun nessuna particolare opera di beneficenza non ne sentivo la necessità ecco raggiunto da Radio Maria poi dopo come dire una volta che che si spezza un po' la corazza del cuore come direbbe padre Livio insomma e e comincia a filtrare veramente la luce e poi dopo si vedono si vedono si vedono le cose quindi veramente io credo ecco che che se siamo stati scelti da un lato una parola che fa piacere a me ha fatto piacere sentirla e sentire e sentire la chiamate io credo che sia così credo che sia così perché perché la mia storia personale insomma lo ha dimostrato troppe volte però è una responsabilità anche ma è una responsabilità anche quella di chi ci sta ascoltando ora perché perché chiunque 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 sente le corde del cuore vibrare ecco io devo dire perché è successo a me si fermi un attimo e e e prenda questo gancio al volo perché perché veramente la vita poi alla fine è questa è questa catena d'amore e quindi io ringrazio ancora per aver come dire avuto la possibilità così di dire due parole però soprattutto ringrazio veramente per l'opportunità che è stata data a me e e per tutti noi e per tutti quanti noi e quindi grazie e grazie e buona giornata a tutti buona giornata di tutti bene non so se c'è un canto finale no non c'è un canto finale bene intanto che loro interranno il canto finale noi adesso usciamo andiamo fuori da dove c'è la madonna la madonna del santo rosario che è la calonda con sulla madonna e lì facciamo una bella foto di gruppo e mentre loro appunto salutano con il canto finale c'è una terra silenziosa dove ognuno può tornare una terra un dolce volto con due segni di violenza sguardo intenso e premuroso che ti chiede di affidare la tua vita e il tuo mondo che ti chiede di violenza ma donna madonna non è che ti chiede e il tuo mondo è dolce è serbo figlio Grazie a tutti. Cantate e pregate con noi fiumi, mari e moni e danzate e cantate con noi.